E' ufficiale, FTX è stato autorizzato a vendere tutte le sue partecipazioni in criptoasset. Il fallimento di FTX continua a far sentire i suoi effetti nel settore cripto. Per rimborsare i creditori, infatti, FTX sarà costretto a liquidare circa 3,4 miliardi di dollari in criptovalute. Si tratta quindi di uno degli eventi di sell-off più ingenti degli ultimi anni. C'è infatti chi dice che il prezzo di Solana potrebbe crollare, così come le altcoins che sarebbero a rischio. Occorrerà quindi monitorare la situazione da vicino per verificare se ci sarà volatilità sui mercati. Andiamo quindi nel dettaglio ad analizzare questa maxiliquidazione per vedere quali possibili ripercussioni potranno avere su criptovalute coinvolte come Solana, Bitcoin ed Ethereum. Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Webeconomia.it in questo nuovo aggiornamento. Torno dopo una pausa estiva abbastanza lunga, pronto e carico per portare nuovi approfondimenti e contenuti su questo canale. Oggi faremo un breve riepilogo della situazione di FTX, l'exchange come sapete fallito l'anno scorso per sapere se le altcoins sono veramente a rischio. Prima di partire ovviamente non dimenticare di mettere un bel like al canale e iscriverti se vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo delle criptovalute. FTX come sapete fallita per ripagare i suoi creditori, cioè le vittime di questo crollo, deve liquidare una parte dei suoi asset esistenti. Un provvedimento giudiziario recente come vedete in questo documento ha autorizzato la piattaforma a liquidare questi asset, quindi FTX dovrà vendere circa 3,4 miliardi di dollari come vedremo tra poco in crypto asset. Questo è il documento ufficiale che è stato rilasciato. Se andiamo nella parte claim overview vedete che al 24 agosto sono state presentate circa 36.000 richieste più o meno di risarcimento da parte dei clienti per un totale di 16 miliardi di dollari. Sotto vedete la suddivisione tra FTX.com e FTXUS, ovvero il sito dedicato ai clienti statunitensi. Vediamo che i claim accordati, quelli evidenziati in verde, sono ancora pochissimi rispetto al totale. Ma quello che ci interessa è la sezione B, quella degli asset overview. Come possiamo vedere in questo executive summary in celeste la parte più rilevante è data da questa fetta di 3,4 miliardi di dollari in crypto asset. Poi come vedete ci sono altri asset come i bond statunitensi, cash e tante altre cose, ma li vedremo dopo. Vediamo dunque com'è composta questa fetta relativa alle criptovalute. Il grosso come vedete è rappresentato da 1,1 miliardi in solana e 560 milioni circa in bitcoin. Puoi seguire anche Ethereum, Aptos, USDT, Ripple, Bit, insomma tanti altri token. La notizia ha inevitabilmente provocato timori tra gli operatori per un possibile eccesso di offerte sul mercato. Tuttavia le liquidazioni avverranno con tranche settimanali da 50-100 milioni di dollari per attenuare l'impatto sui prezzi. Su webeconomia.it come vedete abbiamo pubblicato l'elenco completo degli asset detenuti da FTX. Una tabella che elenca quindi nel dettaglio gli asset digitali che FTX intende liquidare insieme ai loro rispettivi valori di mercato. Come vedete qui abbiamo Solana per circa 1,16 miliardi di dollari, Bitcoin 560 milioni, Ethereum 192 milioni, Aptos 137, Tether, Ripple, Bit, Stargate e poi le versioni wrapped di Bitcoin ed Ethereum. Abbiamo visto nel documento come Solana sia una delle criptovalute più interessate da questo tipo di liquidazione. Con un valore di 1,1 miliardi di dollari in Solana detenuti da FTX il mercato quindi ora ha paura di un possibile crollo del settore altcoin. Abbiamo visto che la quota più consistente è quella di Solana. Se andiamo su CoinMarketCap vedete che abbiamo circa 8 miliardi di market cap e dunque avremmo con 1,1 miliardi circa il 15% dell'offerta circolante di Sol. Quindi una cifra enorme. Dobbiamo quindi preoccuparci Solana può crollare? Se andiamo ad esempio a vedere alcuni report di CoinGecko vedete qui in questa tabella che notiamo che una parte significativa di questa cifra è in staking o soggetto comunque a vesting fino al 2028. E quindi l'impatto immediato sul mercato sarà ridotto. La maggior parte di queste partecipazioni consiste in token acquisiti circa 42,2 milioni di token che non sono immediatamente vendibili sul mercato. Questi dati c'erano anche nel report della Solana Foundation dopo il fallimento di FTX. Come vedete addirittura ci sono degli unlock schedule che parlano di date come il 2025-2027 e addirittura un unlock fino al 2028. C'è quindi tanta liquidità in Solana da vendere ma è improbabile che queste vendite impatteranno in modo istantaneo sul mercato. La corte potrebbe quindi imporre un limite settimanale alle vendite attenuando ulteriormente la pressione ribassista. Molte delle vendite infatti potrebbero avvenire over the counter cioè OTC al di fuori del mercato e quindi senza passare da exchange tradizionali e quindi avere ancora un impatto minore sul prezzo. Bitcoin ed Ethereum come vedete qui hanno una quota molto bassa quindi dovrebbero assorbire meglio le vendite. Diciamo che una vendita di 500 milioni a Bitcoin farebbe il solletico così come ad Ethereum. Occorre però essere sempre prudenti ma gli impatti potrebbero essere meno gravi del previsto a mio avviso. Solana quindi è morta per l'ennesima volta come ci dicono sempre e le notizie sembrerebbero andare nella direzione opposta. Come vedete in questo tweet addirittura abbiamo una partnership con Visa che sta ampliando il suo progetto pilota di pagamenti tramite stablecoin e ha scelto proprio Solana come una delle blockchain di riferimento. Perché Solana? Perché si tratta di una rete estremamente veloce che consente di ottenere trasferimenti economici e veloci. Milioni di dollari in USDC, la stablecoin di Circle, sono stati già trasferiti con successo anche ad altre blockchain come quella di Ethereum oltre che su Solana. Qual è l'obiettivo? È quello di migliorare la velocità dei pagamenti cross border offrendo ai clienti un modo moderno e facile per inviare e ricevere fondi. Stablecoin come USDC unitamente a blockchain ad alte prestazioni come Solana ed Ethereum consentono di accelerare il settlement tra gli istituti finanziari. Sentiamo sempre questa parola ma che cos'è il settlement? Come sapete quando si utilizzano pagamenti tradizionali il settlement avviene settimane dopo o mesi dopo. Cioè quando i consumatori ad esempio usano le carte per i loro acquisti presso gli esercenti i fondi impiegati devono spostarsi fra la banca dell'emittente e quella diciamo la banca del commerciante. E' qui che entrano in gioco i sistemi di settlement divisa che consentono la compensazione e il trasferimento istantaneo di miliardi di transazioni al giorno. Quindi una transazione diventa effettivamente definitiva dopo un certo periodo di tempo. In un settlement layer crypto invece bisogna assicurarsi che quella transazione sia accettata e definitiva senza possibilità di fare un rollback e quindi di tornare indietro. Queste mosse divisa quindi confermano l'impegno a promuovere l'innovazione nelle criptovalute nonostante la difficile congiuntura di mercato. Quindi Solana piaccia o non piaccia per ora è più viva che mai. Ma torniamo a FTX. Qui vedete ancora gli investimenti di FTX ma che cos'altro contiene il portafoglio di FTX? Vediamo che nell'intero portafoglio di FTX abbiamo scoperto che ci sono anche delle proprietà immobiliari oltre ad altre allocazioni. Come potete vedere nella sessione degli asset overview abbiamo infatti miliardi di dollari in asset governativi quindi in bond del tesoro USA. Altri miliardi di dollari sono in contanti quindi in cash 200 milioni di dollari di proprietà le Bahamas che troviamo anche nel documento più sotto. Potete comunque leggere questo documento per curiosità e farvi un'idea. Per noi ovviamente sono importanti come abbiamo detto la parte questa qui dei 3,4 miliardi di dollari in partecipazioni in criptovalute che stanno per liquidare. In questi giorni ci potrebbe essere ulteriore volatilità sui mercati per l'attesa di guidazione di FTX ma non solo. Anche i dati sull'inflazione degli Stati Uniti che si è attestata al 3,7% potrebbe portare un minimo di volatilità che per ora non c'è stata. Il CPI di agosto si è confermato a un più 0,6% in linea con le previsioni degli economisti. Quindi l'inflazione su base annua ha raggiunto il 3,7% rispetto al 3,6% previsto. Quindi un leggero aumento. I prezzi del petrolio hanno raggiunto i massimi del 2023 e dunque hanno influenzato direttamente anche l'inflazione generale. La Federal Reserve comunque rimane ottimista grazie al dato del calo dell'inflazione di base, cioè il dato core. Quindi abbiamo un contesto ancora negativo seppur stabile anche sulle criptovalute. Vedete qui che nell'ultima settimana abbiamo molte altcoin in rosso, però niente di drammatico. Prudenza quindi, ma senza farsi prendere dal panico, molti ribassi probabilmente potrebbero essere già stati scontati dal mercato. Quindi per ora nessun bagno di sangue sulle altcoin. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video e abbiamo visto brevemente qual è la situazione delle liquidazioni per quanto riguarda l'exchange FTX. La liquidazione quindi probabilmente aggiungerà una pressione ribassista in un momento già complesso, ma probabilmente con effetti meno dirompenti rispetto a quanti in molti prevedono. L'effetto di questa vendita di token da parte di FTX quindi potrebbe essere diluito nel tempo, anche se è lecito attendersi una certa volatilità su Solana, su Bitcoin ed altre criptovalute direttamente coinvolte. Bitcoin ed Ethereum dovrebbero quindi reggere meglio, mentre a soffrire potrebbero essere i token poco liquidi. Ti lascio naturalmente i link in descrizione sul sito e tutti i riferimenti per comprare criptovalute ed accedere ai vari servizi. Ti ricordo che utilizzando questi link mi aiuti a supportare il canale. Ti invito come sempre a iscriverti al canale per supportarci, a mettere mi piace e attivare le notifiche per rimanere aggiornato con questo e i prossimi contenuti. Io ti ringrazio per l'attenzione, come sempre ti saluto e ci vediamo al prossimo video.